ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture vi ringrazio sempre tanto per il vostro affetto vi saluto calorosamente sia chi mi segue da tanto e anche ai nuovi vi ricordo di iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte questo è un canale appunto come chi già lo sa è un canale di crescita personale e spirituale dove a volte pubblico molto spesso anzi dei contenuti anche di crescita personale decreti codici sacri meditazioni lavoro con i raggi lavoro con gli angeli e anche delle cose fiamma viola che possono aiutarvi proprio a ripulirvi questo di oggi è un altro contenuto che vi aiuterà sicuramente contro le energie negative ed è un contenuto forse a volte poco conosciuto ma anche se conosciuto è poco usato io ve lo metto lo stesso perché di enorme efficacia e va fatto all'occorrenza non segue nulla questa cosa non segue né la luna non segue un momento particolare non c'è da farlo 21 giorni lo si fa quando serve che è proprio la preghiera di san patrizio contro gli incantesimi e i malefici che san patrizio appunto il patrono di irlanda è caratterizzato proprio da questo colore verde dove fanno un sacco di feste poi in irlanda colorano addirittura i fiumi con le colorante verte fanno un sacco di cose famoso anche per il pozzo no chi non ha mai sentito il pozzo di san patrizio ci sono tante storie su questo santo che pare sia stato fatto anche schiavo detenuto insomma e poi abbia trovato insomma la sua fede le sue cose ci sono tante cose tante leggende proprio su san patrizio oggi ci dedichiamo però a questo discorso al discorso come da questo canale di aumentare le energie quindi togliere proprio la negatività e fare in modo di aumentare quella che è la positività lo scacciare via proprio l'entità malevole perché sapete che dobbiamo affermare per togliere le cose dobbiamo comunque dirlo anche noi pensarlo anche noi cioè recidere tutti i contratti praticamente come fa un po il decreto di razel no dobbiamo proprio dire all'entità malevole di luce io non ti conosco io rinuncio anche se ho fatto questo questo e questo ora non lo voglio più è importante la vostra rinuncia perché l'entità malevole negative comunque si aggrappano a questo cioè come se voi aveste promesso se aveste fatto perché se uno non è nella luce poi è più facile che l'entità negative colpiscano quando una persona cresce nella propria luce personale queste entità non hanno nulla da mangiare ok simile con simile dico sempre questa è una preghiera potentissima che potete usare all'occorrenza la trovate anche nel mio sito web quintadimensioneletture.it siccome è un po' lunga adesso nella descrizione del video la leggete insieme a me se volete chi la vuole fare con me la può fare con me in base alla velocità della propria voce io non la posso spersonalizzare perché devo dare l'impronta quanto lecco quindi chi riesce a starmi dietro la può fare insieme a me altrimenti se la fa da solo la trovate qui sotto nella descrizione del video quindi già da subito chi la vuole ascoltare adesso qua nel video con me vada sotto intanto perché il video continua a parlare lo stesso mi sentite lo stesso è cliccate la freccettina in basso del video trovate il la preghiera questa preghiera che ve la metto tutta per scritta e la leggete da lì insieme a me poi vi metto una carta facciamo tre carte 1 2 3 la carta 1 la carta 2 la carta 3 di un messaggio per un di un arcangelo proprio in questo momento in questo video così particolare che ti deve arrivare prima facciamo la preghiera di san patrizio quindi trovatela un attimo andate sotto nella descrizione cliccate trovate questa preghiera che ho trascritto per voi e si trova anche nel sito web comunque anche successivamente un altro giorno che voi volete facciamo sempre come insomma come bisogna fare in questi momenti sempre un bel respiro comunque focalizzare visualizzare sempre il fatto che vogliamo essere ripuliti quindi già visualizzarsi pieni di luce circondati da uno voide se vogliamo di luce chi fa fate anche la meditazione quella visualizzazione del tubo viola del tubo di luce e della fiamma viola che sta sempre sul mio sito web ci sono tantissimi contenuti qua sia sul mio canale youtube che sul sito questi sono tutti i lavori importanti che dovete fare allora un attimo che la prendo anch'io cominciamo col fare almeno tre bei respiri profondi inspiriamo dal naso ed espiriamo proprio dalla bocca fate questi tre respiri e poi partiamo allora vi metto l'immagine di san patrizio mentre leggiamo la metto proprio in modo che rimanga fisso il suo viso che ci guarda partiamo mi alzo in questo giorno che sorge per una grande forza per l'invocazione della trinità per la fede nella trinità per l'affermazione dell'unità del creatore del creato mi alzo in questo giorno che sorge per la forza della nascita di cristo nel suo battesimo per la forza della crocifissione della sepoltura per la forza della resurrezione dell'ascensione per la forza della discesa al giudizio finale mi alzo mi alzo in questo giorno che sorge per la forza dell'amore dei cherubini in obbedienza agli angeli al servizio degli arcangeli per la speranza della resurrezione della ricompensa per la preghiera dei patriarchi per le previsioni dei profeti per la predicazione degli apostoli per la fede dei confessori per l'innocenza delle vergini sante per le azioni dei beati mi alzo in questo giorno che sorge per la forza del cielo luce del sole chiarore della luna splendore del fuoco velocità del lampo impetuosità del vento profondità dei mari solidità della terra solidità della roccia mi alzo in questo giorno che sorge per la forza di dio che mi spinge per la forza di dio che mi protegge per la saggezza di dio che mi guida per lo sguardo di dio che vigila sul mio cammino per l'orecchio di dio che mi ascolta per la parola di dio che mi parla per la mano di dio che mi custodisce per il cammino di dio davanti a me per lo scudo di dio che mi protegge per l'ostia di dio che mi salva dalle trappole del demonio dalle tentazioni del vizio da tutti coloro che vogliono il mio male lontano e vicino a me agendo da soli o in gruppo invoco oggi queste forze a proteggermi dal male contro qualsiasi forza crudele che minacci il mio corpo e la mia anima contro l'incanto dei falsi profeti contro le leggi oscure del paganesimo contro le false leggi degli eretici contro l'arte dell'idolatria contro gli incantesimi di streghe e maghi contro saperi che corrompono il corpo e l'anima cristo mi custodisca oggi contro il veleno contro il fuoco contro l'affogamento contro le ferite perché io possa ricevere e godere la ricompensa cristo con me cristo davanti a me cristo dietro di me cristo in me cristo sotto di me cristo sopra di me cristo alla mia destra cristo alla mia sinistra cristo quando mi stendo cristo quando mi siedo cristo quando mi alzo cristo nel cuore di tutti coloro che pensano a me cristo sulla bocca di tutti coloro che parlano di me cristo in tutti gli occhi che mi guardano cristo in tutti gli orecchi che mi ascoltano mi alzo in questo giorno che sorge per una grande forza per l'invocazione della trinità per la fede della trinità per l'affermazione dell'unità del creatore del creato beh se la fate così ci dovete mettere non c'è da recitare a pappagallo bla 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 e dovete dargli la la potenza soprattutto in certi punti ok la fate da soli mi raccomando oppure chi vuole segue me ma sapete che io quando faccio le cose non non aspetto cioè c'è da farle in un certo modo chi riesce a stare a ritmo bene se no non importa non vi preoccupate va benissimo anche fatta da soli e ricordo a tutti che adesso tiriamo giù una carta ricordo a tutti che va fatta all'occorrenza se quel periodo così vi sentite di farla la fate tutti i giorni per un po finché non vi sentite meglio va bene immaginatevi proprio il viso san patrizio ok fate le visualizzazioni che volete di luce se vi può aiutare tenetevi anche l'immaginetta comunque anche di san patrizio insomma va benissimo se volete allora andiamo adesso con la carta e scegline una la 1 la 2 la 3 vediamo che messaggio c'è qui è oggi la preghiera di san patrizio che messaggio c'è oggi allora scegli un messaggio il primo messaggio è questo questo è il secondo questo è il terzo vediamo un po cosa ti viene fuori 1 allora jeremiel superare le difficoltà ora il peggio è passato e stai superando tutte le difficoltà bellissimo ti ha scelto la carta 1 c'è un messaggio che ti sta dicendo che il peggio è passato le difficoltà stanno per essere superate quindi parla proprio solo di questo perciò è molto diretto molto chiaro perciò chi nella chi ha scelto la carta 1 e sapete insomma che avete dei pensieri particolari delle difficoltà che sono state magari toste da superare da passare ti dicono qua il peggio è passato ok carta 1 l'arcangelo jeremiel proprio ti sta dicendo questa cosa quindi fatti tuo questo messaggio ricordatelo perché non arriva per caso questa cosa così specialmente così netta diretta stai superando tutte le difficoltà ti dice quindi perfetto perfettamente va bene questa era la 1 il peggio è passato carta 1 andiamo con la carta 2 il messaggio per la 2 qual è un saluto dal cielo azrael i tuoi cari in cielo stanno bene lascia andare le preoccupazioni e senti le loro amorevoli benedizioni bellissimo qua c'è proprio un saluto che è arrivato chi ha scelto la carta 2 a livello proprio di defunti i tuoi cari in cielo stanno bene qua c'è un messaggio un saluto da qualcuno che non c'è più attraverso appunto questo arcangelo azrael che proprio l'arcangelo ha detto a queste cose quando ci sono i defunti quando le anime stanno per lasciare il corpo li aiuta nel passaggio ed è un arcangelo che aiuta anche chi rimane qua a chi rimane a soffrire a piangere per qualcuno è un arcangelo particolarmente da invocare quando siamo in un periodo di lutto periodi molto tristi quindi azrael perciò qua c'è proprio il saluto dei tuoi cari dal cielo ti sta dicendo che stanno bene o sta bene lascia andare le preoccupazioni e senti le loro amorevoli benedizioni se cerca anche di sentire questo amorevole abbraccio magari di un tuo caro che non c'è più e le loro benedizioni molto bello proprio detto è un saluto per te bellissimo sono felice a chi ha rincuorato sono contenta carta 2 grazie ora chi ha scelto la carta 3 vediamo qual è il messaggio michele ah ah vabbè ricordati chi sei eh sì sei un potente amorevole e creativo figlio di dio sei molto amato però ci avete fatto caso che stiamo parlando di negatività malefici cose e chi guarda un po qua chi c'è michele c'è eh sempre perfetto sincronicità stupenda ma che accade spesso qua su quinta dimensione letture e ne sono molto felice allora qua c'è da ricordarsi che non sei debole per niente carta 3 non avere questo dubbio ricordati chi sei sei creativo amorevole potente e sei sempre un figlio di dio comunque sia sei sempre una divinità anche tu porti la scintilla di dio sei molto amato quindi qua ricordati questo vuole anche tirar su magari un po di morale l'arcangelo michele a chi magari in questo momento si sente un po debole non si sente degno si sente un po triste si sente un po in preda anche agli altri alle cose che possono succedere e tante cose non ti preoccupare ti sta dicendo e ricordati questa cosa ricordati chi sei e sei molto amato sei molto amata questo messaggio proprio che ti ha voluto arrivare qui oggi dall'arcangelo michele e sei un potente amorevole figlio di dio questa era la carta 3 con l'arcangelo michele grazie mille a chi mi ha seguito ricordatevi questa preghiera contro gli incantesimi e i malefici questa preghiera di san patrizio molto molto potente da usare al bisogno come le medicine quando serve si prende va bene ovviamente la potete recitare a ruota libera non c'è un ciclo da seguire come ho detto all'inizio del video si può fare anche per qualcun altro sì certamente non c'è bisogno di inserire il nome lo fate voi proprio per quella persona prima di farla l'intenzione che imposta alla persona è importante quindi se la vuoi fare per qualcuno la imposti faccio questa preghiera di san patrizio contro incantesimi e malefici per ok edite il nome e quindi che altro dirvi grazie cercatevi gli altri contenuti comunque di crescita che ci sono sempre su questo canale per proteggervi dalle negatività e tante cose che trovate anche sul sito web vi lascio in sovraimpressione tutto quanto anche per parlare con me leggete anche le descrizioni del video chi vuol fare consulenze chi vuol fare video consulti su guisio le domandine a fronte di una piccola donazione su cofi.com ci sono tante cose da scoprire e da vedere fatti in giro anche sul sito web io vi ringrazio tutti anche per questo video ho terminato e vi aspetto presto sempre qua con nuovi contenuti qui su quinta dimensione letture ciao a tutti e grazie